Buongiorno a tutti amici miei, ben ritrovati qui dal vostro Cartostar. Come state? Come state? Spero tutto bene. Oggi siamo in una puntata un po' particolare, perché... Sì, oggi diciamo che è una puntata un po' speciale, tecnicamente. E voi direte, ma è perché la ventesima puntata sono già 20 episodi? Che siamo in questo mondo? Sì, potrebbe anche essere per quello, ma in realtà, a parte la pacca sul microfono, è perché oggi il vostro Cartostar diventa ben un anno più vecchio. E quindi cosa ho pensato di fare? Cosa ho pensato di fare il vostro vecchio Cartostar? Beh, intanto di chiudere questa porta, però ho pensato che va bene che questo sia l'ingresso di casa nostra. Però non è che è proprio tutto un intero, come si dice, un intero soggiorno, è anche sala da pranzo, cose così. E quindi cos'è che ci può servire, se non una bella stanzona, bella, grossa, spaziosa, in cui fare la nostra sala da pranzo. E quindi oggi ho preso i materiali, così faremo la sala dove si può mangiare, dove si può festeggiare l'invecchiamento di questo vostro caro youtuber. Va bene? Va bene! Allora, iniziamo. Io ho già fatto lo spazio e le pareti, perché? Perché tanto quelle lì sono sempre le solite, le sono spacca ai blocchi, piazza ai blocchi, spacca ai blocchi, piazza ai blocchi. Quindi pensiamo alle cose un po' più succose. Allora, io stavo pensando a una cosa, ovvero potremmo fare un bel contorno che va a riprendere lo stile del corridoio, quindi qui con la deep slate, e poi al suo interno fare un altro bello riempimento di planks di dark oak, meglio note anche come il legno di cioccolato. dai antichi tempi della 1.7.10, questo qui è il legno di cioccolato. Però io avevo in mente di fare una cosuccia. Allora, io direi che qua però facciamo che il cerchio si chiude sempre con la pietra, così che questa sia la stanza, questo il corridoio. Io volevo fare una cosa, invece, per quanto riguarda il pavimento. Io volevo provare a creare questo pattern, così da creare questi tipo anellini, anche se effettivamente sono un po' troppo piccoli per essere definiti tali, però a noi per il momento va bene anche così. Poi, adesso, dobbiamo pensare ad una cosa molto, molto importante, ovvero, ci sono due cose che adesso ci mancano. Uno è il soffitto, l'altro è le decorazioni. Io direi di pensare prima al soffitto. E pensavo di riciclare per l'ennesima volta il tetto, quello con i tronchi, però volevo farlo in un modo un po' diverso. Adesso mi sa che mi conviene alzarmi, vabbè, prendimi il legno di betulla, fammi una bella colonnina così. Volevo fare una cosa leggermente diversa. Diversa, ce la faccio parlare, lo giuro. Gli anni avanzano, ma i problemi rimangono sempre quelli. Purtroppo la vita è anche un po' così. Comunque, pensavo di fare una cosa leggermente diversa, ovvero, adesso noi facciamo, facciamo così. E dopo aver ultimato anche l'ultimo tronco, stavo pensando a una cosa. Come potete vedere, ho già messo delle scalettine qui ai bordi del pilastro centrale, della zona centrale, con anche questi blocchettini di deep slate. La mia idea è questa. Io farei un'alternanza, così, con le scale, perché pensavo magari di farlo con le slab, però no, mi sa che viene un effetto un po' preutto, perché quando ho provato a fare una cosa simile, diciamo, non mi piaceva molto. Ma potremmo pensare di fare una cosa così, con le scale che fanno d'appoggi, ma non tutto quanto, oppure proviamo tutto quanto, perché sì, tutto quanto non è male, però la mia idea era che se lasciavamo almeno uno spazietto, tipo qua e là, per esempio, lasciamolo dopo due, possiamo fare una cosa interessante, ovvero, tipo, qua sopra mettiamo due fence e attacchiamo le lanterne e così abbiamo l'illuminazione con cui, tipo, togliere le torce qua dagli angoli. Però, se noi facciamo così, oltre che rendere la stanza più luminosa, fa questo bellissimo effetto, che, tipo, c'è questa specie di... non so come definire, questa specie di retroilluminazione, se volessimo dirla così, nel senso che questa risulta leggermente più avanti, quindi dà quel piccolo tocco di profondità, e invece le altre, stando dietro, danno, sì, un bel effetto, però non lo fanno sembrare così piatto, ecco, come... cioè, gli dà un pochettino un senso di movimento, se posso essere onesto. Quindi, secondo me, potrebbe starci. Però, sì, ok. Diciamo che guardandolo come vista periferica, queste cose con la birch, mi sa che fanno un po' cacare, quindi, credo che le cambieremo. Poi, magari, la cambiamo, però in questo momento non mi vengono idee e, onestamente, quelle cose di Betulla stavano un po' male, quindi... Tornando a noi, il fatto è che io volevo che un po' si vedesse la pietra liscia, perché volevo che ricordasse un po' il tetto qui del magazzino, perché, come ben sappiamo, noi siamo sottoterra, non siamo all'esterno, alla nostra casa si trova all'interno di questa cavità che abbiamo creato noi nella collina, barra nella montagna. Quindi, il fatto che si veda un pochettino la pietra liscia ricorda questo fatto e, tipo, ci fa quell'effetto, appunto, di essere più nel sottosuolo. Poi, piccolo dettaglio, qui stavo pensando... È che... Esatto, qui purtroppo c'è un buchettino, perché, se io mi sa che scavo qui... Esatto, finisco nel magazzino... Ah, no, possiamo, è vero, scusami. Possiamo, possiamo, tipo... Io volevo fare una cosa di questo tipo. Devo prendere, però, delle scalette di... Stone Bricks, perché io volevo far così, per dare un po' più di... Dettaglio alla stanza. Ed, effettivamente, noi possiamo farlo perché qui nel magazzino non abbiamo effetti collaterali, perché tanto queste sono delle scale, però non... Cioè, non si vede, perché all'effettivo sono blocchi dall'altro lato. O meglio, ancora, potremmo pensare di fare una cosa del genere, ovvero distanziarle un pochettino. No, mi scusi, signor Stone Bricks, torni qui. Così che non siano proprio piatte piatte, tra virgolette. Ma sì, dai, ci può anche stare, ci può anche stare come effetto, devo dirla tutta. Ci può stare perché si ricollega un po' il soffitto, nel senso che c'è questo mattoncino qui che non dà il buco nel soffitto, però, intanto, c'è un buchettino che dà un po' più di... di sensazione, è come se qua ci fosse al ripiano per qualcosa, anche se all'effettivo io stavo pensando, magari, di fare una specie di passaggio segreto, se volessimo dirla così. Però devo vedere come si fa a fare una cosa, ovvero, devo craftare una cosa che non ho veramente mai craftato in vita mia, ovvero un quadro. Sì, ho dovuto controllare la ricetta perché non ho mai craftato un quadro in vita mia, se devo essere proprio onesto con voi. E andiamo, tipo, a mettere dei blocchi qua attorno, così che... esatto, dovrebbe venire direttamente un quadro largo 2, e noi, se vogliamo, possiamo passare di qui e... tadan! Abbiamo un passaggio segreto, tipo... il passaggio segreto più ovvio e scontato di tutto Minecraft, però, quantomeno lo abbiamo. Comunque, tornando a noi, adesso, io volevo fare una cosa, ovvero, volevo impostare intanto le sedie, se volessimo già far così, così da capire quanto possiamo fare largo il tavolo, che io pensavo di fare in questo modo, e poi, con delle slab, andare qui... no, fermoli, andare a far così, e poi, però, volevo fare anche una cosa di questo tipo, solo che non so se metterlo così, scortecciato, oppure non scortecciato, forse è meglio scortecciato, però, effettivamente, forse ci conviene che i blocchi di legno qui, ai bordi, le mettiamo per traverso, così, che effettivamente sembri un vero tronco usato per questo tavolo, voi che dite? Solo che non saprei come decorarlo, perché non ho mai fatto un tavolo in vita mia su Minecraft, quindi, facciamo che probabilmente dovremo mettere anche i posti del capotavola, quindi, penso, almeno, ipotizzo da quello che ho sempre visto che viene fatto da molti youtubers, serva, diciamo, un po' di oggettistica, di quelle molto più decorative, tipo queste porte e i cartelli, e vediamo un po' come posso realizzarle, no, non penso così, penso, anzi, più così, tipo, il capotavola, la seggiola, effettivamente, tipo, più scura, o cose di questo tipo, però, non so se posso farlo anche di qui, perché penso che, no, ok, posso farlo, wow, pensavo che il quadro andasse a occupare effettivamente il blocco questo qua, perché, sento che è piazzato qua, però, a quanto pare, no, a quanto pare, posso mettere un quadro nello stesso blocco, sì, non mi ero accorto di aver messo il cartello nel modo sbagliato, lasciamo stare, va bene, lasciamo stare, nessuno ha visto niente, ok, nessuno ha visto niente di niente, quindi, nessuno criticherà il fatto che non so neanche mettere i cartelli su minecraft, esatto, mi sa che ci conviene utilizzare, ci conviene utilizzare le trapdoor, perché almeno, non lo so, meno, fanno meno casini, e poi, tipo, in fondo, come dettagli, non posso metterli, perché ci sono i cartelli, porca di quella miseria, gli ospiti rimangono senza braccioli, e basta, quindi, noi andiamo a metterli di nuovo alle loro posizioni iniziali, ho detto, Joe, allora, direi che questo tavolo per il momento è abbastanza completo, però, essendo che è stato fatto per una festa, manca una cosa importante, che immagino voi sappiate che cosa sia, solo che io non so come si faccia, quindi, come si fa? Grano, latte, zucchero e uova, quindi, allora, beh, di uova ne ho un po', mi sa, grano, ok, ne ho un pochettino anche qui, legno, direi che lo sbattiamo via, che tanto per il momento non ci serve, lo zucchero, dovremmo poterlo fare con una cosa questa qui, e quindi ci servono tre bicchieri di latte, che andiamo a prendere dalle nostre mucche in fondo alla notte, salve notte, no, non alla notte, notte no buono, e quindi, anche senza andare in magazzino, possiamo craftarci la nostra torta, e hop là, però per la candelina, come, come si fa? bisogna di un honeycomb e una stringa, però io l'ho honeycomb, non so come si ottiene, volevo giusto dire che mi sono ricordato, siamo, aspettate, come ve lo faccio vedere, siamo di qui, da questa parte delle mura, quella dove c'è la torre, col tetto chiuso, mi ricordavo che quando gironzolavo di qui, avevo intravisto delle api, solo che non saprei dove sono, signora ape, dove è casa sua? perché io ho visto loro, però non ho visto, un attimo scusate, mi scusi lei ma mi sembra un po' un po' bassino come, come casa, ma non dovevano spawnare tipo sugli alberi quelli alti o cose di questo tipo, questo cos'è? un monolocale per, non è neanche un bilocale, non avete neanche il bagno, come faccio a ottenere il miele perché ho guardato sulla wiki sì, ho dovuto guardare ho dovuto guardare veramente sulla wiki per sapere come si fa a ottenere il miele e dice che devo sforbiciare il come si dice qua l'alveare però non non me lo fa sforbiciare non è che magari perché non c'è miele al suo interno e quindi tipo mi servono dei fiori uh aspettate ma c'è un altro e questo sembra diverso uh eccolo abbiamo ottenuto il miele aspettate comunque faccio che prendere un paio di fiori e li porto più nella zona di là perché non so come cioè non so se tipo posso prendere l'alveare e spostarlo quindi prima di fare una cosa tipo spawner che rompi e finisce male faccio che mettegli un paio di fiorellini qua e là così tecnicamente dovrebbero essere un pochettino più felici scusate dov'è che era il monolocale di qui eccolo qua vediamo se questi qui vanno bene oh brava vada dai fiorellini così capisco un pochettino anch'io come funziona quindi lei guarda il fiorellino e quindi lei mi apeggia come un ape reale oppure del mondo reale oppure ho cannato la mia ipotesi non lo so vabbè sentite noi i nostri pezzettini di miele adesso ce li abbiamo siamo felici con noi stessi possiamo tornare a casa e fregarcene al massimo tornerò lì in un altro momento e via quindi se ho visto bene prima abbiamo bisogno di una stringa abbiamo fatto le candele però adesso ci serve no mi scusi signora chiave non volevo girarla esatto ci serve questo comunque se possibile io sarei molto felice di non dar fuoco a tutta quanta casa mia quindi non ah ok adesso ok posso metterla su e tanti auguri aspettate mi siedo qui anzi scusate non possiamo fare una cosa fatta bene che effettivamente mi è venuta in mente adesso però non essendo molto esperto di come funziona il vanilla mi è venuto in mente appunto in ritardo mi sembra che tipo tu debba fare questo giochetto qui se vuoi che funzioni ah però non vanno più i cartelli è vero adesso ho capito perché allora la gente metteva le botole perché così non vanno i cartelli ah ah quindi signori miei mi sa che la torta dovevo avvicinarla un pochettino perché sennò non si vede una sega forse eeeh no mi sa che non cambia molto comunque signori miei facciamo che mi vado direttamente ad abbuffare sopra al tavolo mangiamo assieme una bella fettina di torta che si spegne anche la candelina io il mio desiderio l'ho espresso ed è quello che a voi sia piaciuto il video quindi direi che dal vostro carto star è tutto spero che questo video speciale di compleanno vi sia piaciuto noi ci becchiamo ad una prossima se effettivamente camminare sulla torta non mi sembra molto igienico soprattutto quando delle scarpe in diamante che sono state dappertutto però vabbè spero appunto che il video vi sia piaciuto questa nuova stanza di casa vi sia piaciuta noi ci becchiamo in un prossimo video e niente ciao ciao ps sì la stanza segreta la facciamo in un prossimo episodio è solo che mi era venuta l'idea e non volevo dimenticarmela quindi tutto lì ciao ciao